Come va? Bene. Sei pronta per l'escursione per la grotta dei pipistrelli? Sì, prontissima. Andiamo, per dire che è impegnativa, però ne vale la pena. Bacioni, andiamo a vedere questa bella grotta, va? Speriamo che i pipistrelli non ci assalto. Ciao, ciao. Ciao, ciao amore. No, non è mica facile. Non mi ha messo i vanini? No, non mi ha messi i vanini. Ma stai andando a messi che cade. Dai, dai. ma è assurdo però, ci sono rimasti impigliati è bucata è una bella costa ma le cose belle è sempre così sono impegnative guarda che splendore guarda che bella la valle di Pantalica, gioia guarda ti invidia ti stanno facendo il bagno nell'acqua fresca guarda che bello 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 guarda che bocca guarda che bocca guarda che bocca un bel saltino fai il colmo sarebbe che arriviamo sotto e non possiamo passare sembri indiana jones o joey dai che ci siamo dai che ci siamo e vai si passa ecco la serena la mitica grotta di pipistrelli gioia guarda che spettacolo adesso che bella gioia le hanno dimenticato si no guarda tutte le case antiche pensare che una volta ci vivevano com'è se ne vedono i pipistrelli? no speriamo di guarda che spettacolo guarda guarda che spettacolo Grazie a tutti. Ah, guarda che bella vista da qua. Gioia, è uno spettacolo. Anche le gocce in testa. Ciao amore. Hai visto che caratteristica? Guarda? Guardate questo.